Occhio alla notizia In studio, Marco Ferri Vediamo insieme il sommato Le Marche restano in fascia gialla Abbiamo il livello della curva migliore in Italia In decrescita, a dirlo al governatore Acquaroli Che con soddisfazione esclude un passaggio alla zona arancione La situazione negli ospedali marchigiani Sono 71 i pazienti ricoverati in terapia intensiva 590 negli altri reparti 10 le vittime, la maggior parte anziani Con patologie pregresse Anche Fano avrà il suo Covid Hotel Una struttura dove potranno essere ospitate persone positive In isolamento fiduciario Nella regione saranno 13 In totale gli alberghi riconvertiti Quarto giorno di coprifuoco serale Controlli delle forze dell'ordine Prime contravvenzioni Ecco come si presentano Fano e Pesaro dopo le 22 Esercenti e ristoratori apparecchiano in piazza a Pesaro Per protestare contro le chiusure serali dei locali La pandemia fa saltare anche la mostra Mercato dell'olio e dell'oliva In programma a Cartoceto Un danno per la promozione del territorio Dice il sindaco Sono stati individuati e arrestati dalla polizia a Pesaro Gli autori di una rapina ai danni di un anziano Avvenuto in Viale Trieste Si tratta di due giovani del posto Le polemiche con Sgarbi La situazione della pandemia a Pesaro Le ultime novità dalla Giunta Tra poco in diretta su Fano TV Primo cittadino con Matteo Ricci Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione della telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17 Allora cominciamo e diamo uno sguardo subito Alla situazione sanitaria nella nostra regione Partendo dai decessi Sono dieci in totale Quelli registrati nelle ultime 24 ore Lo rende noto il servizio sanità della regione Si tratta di cinque uomini e cinque donne Di età compresa tra i 56 e i 94 anni Tutti con patologie pregresse Tra le vittime c'è anche un uomo di 81 anni di Pesaro Le altre persone erano residenti a Rapagnano Ancona, Grottamare, Monte San Giusto Fabriano e Cupra Marittime I positivi invece sono 262 Nelle ultime 24 ore Su oltre 1200 tamponi Nel percorso nuove diagnosi Un calo dunque anche in corrispondenza Alla diminuzione dei test eseguiti La provincia di Ancona rimane la più colpita Con 148 casi 8 invece soltanto a Pesaro Urbino Ci sono 28 ricoverati in più Invece negli ospedali delle Marche Per un totale di 590 I degenti in terapia intensiva sono 71 Due in più rispetto a ieri Mentre è stabile il numero dei pazienti In semi intensiva E sono 147 E all'emergenza sanitaria Oggi è stato dedicato Un consiglio regionale straordinario Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli Dice Le Marche non rischiano Di passare in zona arancione Mentre l'assessore alla sanità Filippo Salta Martini Ha fatto il punto sui tamponi I posti letto E i protocolli di cura Il servizio è di Simona Zonghetti Sono solo indiscrezioni Il governatore Francesco Acquaroli Ha ribadito che le Marche Oggi in fascia gialla Non rischiano di passare in quella arancione La curva infatti è in decrescita Ma questo non ci deve tranquillizzare Ha precisato a margine Della seduta straordinaria Del consiglio regionale Dedicata al Covid Dobbiamo cercare di essere sempre attenti Ha detto il presidente Che su eventuali nuove misure Ha dichiarato Il DPCM parla chiaro La nostra è una regione Che ha una condizione Tra le migliori in Italia L'assessore alla sanità Filippo Salta Martini Ha poi rimarcato La carenza di personale Di posti letto In terapia intensiva Per questo si sta valutando Di aprire un terzo modulo Da 14 posti All'interno del Covid Hospital Di Civitanova Marche Non si muore solo di coronavirus Ha ricordato Dobbiamo cercare di curare Anche i pazienti non Covid Abbiamo aumentato Il numero dei tamponi Da somministrare In via preventiva Ai cittadini Attualmente Si viaggia su 2.000 tamponi Al giorno Abbiamo chiesto 5.000 tamponi Di cui 2.500 Antigenici rapidi Poi abbiamo aumentato Le pattuglie Usca Unità speciale Di continuità assistenziale Quelli che fanno Le visite domiciliari A questi ragazzi Sono medici E un infermiere Abbiamo acquistato Nuovi scanner Per la digitalizzazione Sostanzialmente Di ecografia toracica Per impedire Che i malati Debbano recarsi Negli ospedali Poi abbiamo chiesto Un unico protocollo Di cure domiciliari Un unico protocollo Di cure Cliniche Ospedaliere Con l'uso di nuove terapie Tra i quali L'ozono La clorossiclorichina E un aumento Dell'impiego Del plasma Derivanti Da soggetti Che si sono guariti Dal covid L'indice effettivo Di valutazione Della pericolosità Delle patologie Si vede dal numero Di ricoverati Nelle terapie intensive Ha spiegato l'assessore Perché è lì Che si salva la vita Altro dato comunicato È quello riferito Alle 300 persone Attualmente positive Nelle case di riposo Ed RSA Nelle Marche Il quadro Aggiunto Vede aumentare I malati covid All'interno Delle strutture Abbiamo dato Una direttiva Al servizio sanitario Di verificare Come mai è avvenuto questo E se sono stati eseguiti Tamponi preventivi Sul personale E l'avanzata età E probabilmente La compresenza Di altre patologie Può portare Queste persone Ad essere ricoverate Nelle terapie intensive Per questo Abbiamo disposto Che la cura Sia eseguita Non più dai medici Di famiglia Ma da specialisti Del servizio sanitario Da medici ospedalieri Da infermieri ospedalieri Con terapie ospedaliere Io penso che Di fronte a questa guerra Dobbiamo unire le forze Poi tutti potranno I partiti I consiglieri Svolgere le loro attività Il vero è però Che il quadro È un quadro complesso Derivante Dall'ammancato acquisto Di vaccini Abbiamo comprato 500.000 vaccini In meno Rispetto a quelli Che ci servivano Adesso il mercato Non riesce A garantirli C'è una sottostima Dei tamponi Per l'accertamento Del covid Non sono stati banditi Alcuni concorsi Che potevano essere banditi Diciamo che c'è tutto Un sistema Abbastanza farginoso Che deve essere Corretto Soprattutto per la presenza Di quattro aziende Ospedaliere Ognuna delle quali Agisce sul mercato Del lavoro Quindi i medici E infermieri In modo autonomo E Salta Martini Ha annunciato anche Che la regione Marche Riattiverà Il numero verde 893 66 77 Per dare risposte Ai cittadini Sulla pandemia Sui comportamenti Da tenere Sui tamponi E altri argomenti Connessi Il numero Era stato disattivato Il 15 giugno scorso E la riattivazione Ha spiegato L'assessore È stata disposta Dalla giunta Per garantire Trasparenza E tempestività Inoltre Dal 9 dicembre Verrà predisposto Anche il numero Unico Di emergenza 112 Che metterà in rete I carabinieri Il soccorso sanitario La polizia E i vigili del fuoco Mediante Una centrale unica Di risposta Che ha sede All'interporto Di Iesi E la regione Marche Stanzia 5 milioni Di euro Dal programma Di sviluppo Rurale Per sostenere Gli agricoltori Colpiti Dalla crisi Economica Causata Da covid-19 Beneficiari Sono le aziende Agricole Agrituristiche Le fattorie Didattiche E le attività Di agricoltura Sociale Che hanno subito Cali di fatturato A seguito Della pandemia Lo annuncia il vicepresidente Mirko Carloni Assessore all'agricoltura Si tratta di una tantum Che potrà arrivare Fino a 7 mila euro E i contributi Saranno legati Alla sola stima Della perdita Di fatturato Che dovrà risultare Superiore a mille euro Le domande Potranno essere presentate A partire Da giovedì 12 novembre Attraverso la piattaforma Siar E nei prossimi giorni Apriranno i battenti I cosiddetti Covid Hotel 13 strutture Distribuite In tutta la regione Marche A Fano C'è una Prima il terremoto Ed ora il coronavirus La regione Marche Anche per l'emergenza sanitaria Può contare sugli albergatori E sulla loro collaborazione Sono 627 Le camere distribuite In 13 strutture Individuate Grazie al sistema Federalberghi Confcommercio Esparse per tutto il territorio Saranno disponibili Anche grazie ad un accordo quadro Firmato in regione Ad accogliere coloro Che sono risultati positivi Al Covid-19 Ma che hanno la necessità Di vivere in isolamento fiduciario Sotto sorveglianza sanitaria E lontano dai propri familiari Per ridurre in questo modo I contagi al minimo Tre sono gli hotel individuati Ad Ancona Due nel Macesartese Tre in provincia di Fermo Mentre due sono le strutture candidate Nella provincia di Pesaro Urbino Una di Pesaro Situata in zona mare Ed una di Fano Quella che vedete alle mie spalle È l'entrata dell'hotel Plaza di Fano Una delle due strutture Che in provincia di Pesaro Urbino Si sono candidate come Covid-Hotel Per ospitare i positivi al Covid-19 Ispezionato da Asur E protezione civile regionale Lo scorso sabato mattina Il Plaza risulta idoneo Per ospitare A partire dai prossimi giorni I primi contagiati Nelle 16 stanze E messe a disposizione È un'esperienza nuova Praticamente Non è il cliente Praticamente prende e viene Insomma a un certo punto Uno degli altri servizi Lui si gestisce da suo E noi gestiamo Sia le pulizie Sia la ristorazione E tutto il resto Praticamente Noi consegniamo dei pacchetti E lì c'è Quello che devono mangiare Quindi Tutta roba sicillata Tutta roba già Preconfezionata La ristorazione Che qui prevede Prima colazione Pranzo e cena Le camere vengono Fatte direttamente Dagli ospiti E queste come ente le cose Noi dobbiamo solo Provedere A portar via La biancheria sporca La pulizia È delegata Agli ospiti Quindi non è che noi possiamo No Ne consegniamo tutti Al di fuori della porta Prevedere che queste qui Non escono fuori Della camera Che devono rimanere Sempre nella camera Per tutto il periodo Il compenso giornaliero Stabilito Ammonta 30 euro Più IVA Se la stanza resta vuota Mentre è di 55 con IVA Inclusi la colazione Il pranzo e la cena Che però Non saranno preparati in hotel Un'offerta Dice Calamandrei Che non è così invitante Considerando che un pasto Self-service Costa ad un albergo Circa 13 euro E che rimanere nei 25 euro E trovare un'azienda Che fornisca le pietanze In contenitori sigillati Per sole 16 persone È piuttosto difficile C'è anche qui un problema Insomma 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 Non è Anche perché Deve rientrare In questi prezzi È possibile Se rientriamo C'è una detta Che mi viene a fare Un po' Portano un costo Per 16 persone È da vedere Insomma Se è possibile Io non so Io anche perché Ho chiesto già due volte Ho fatto due telefonate Ma Non è nata ancora Una risposta Quindi Potrebbe essere un problema L'Asur assisterà Agli albergatori Durante tutta la permanenza Sia sorvegliando Gli ospiti Dal punto di vista sanitario Che fornendo indicazione E formazione Ai dipendenti Beh abbiamo capito Che insomma Non ci si arricchisce Con un Covid Hotel Allora Questo è il servizio Era di Letizia Marchione Adesso invece Con Filippo Pucci Andiamo a fare un giro Nelle città di Pesaro E Fano Durante il coprifuoco Da venerdì scorso Ormai questo è il quarto giorno C'è il Così di tutto Coprifuoco A partire dalle ore 22 Sono le 22 puntuali Siamo lungo via Roma Come potete vedere Qui In questo momento Ci sono pochissime auto Adesso ci dirigiamo Verso L'arco d'Augusto Venerdì scorso Alle ore 22 È scattato il primo coprifuoco Anche a Fano Sono da poco scattate Le 10 di sera E sulle vie principali Della città C'è chi si affretta A tornare a casa Oppure chi ritorna Dal proprio lavoro Ad un certo punto Ci sono soltanto Gli uomini dell'Aset Che a ritmo continuo Sopra i loro mezzi Lavorano incessantemente Per la raccolta Dei rifiuti Un'auto del commissariato Di Fano Controlla che tutti Rispettino il coprifuoco Una città Ferma così Non si vedeva Dallo scorso marzo Un silenzio totale Quasi surreale Che ci accompagnerà Ogni sera Dalle 22 Alle 5 Del mattino Fino al prossimo 3 dicembre Qui siamo lungo La Flaminia Appena scoccate Le 10 di sera Questa è Viale Gramsci L'arco d'Augusto E il bastione E il bastione Illuminati Ci regalano Una scena incantevole Della città Di notte Anche la zona mare È completamente deserta Qui siamo Lungo Viale Adriatico Eppure a Pesaro Le volanti Girano lungo La piazza deserta A controllare I passanti E le auto Il rumore Dell'acqua Della fontana Tiene compagnia All'albero di Natale Appena installato Nelle vie Del centro Si vede solo Un'auto Della vigilanza Controllare I negozi Ci sono Anche le sedie E i tavoli Dei bar Che aspettano Soltanto I pesaresi Fare colazione Il giorno seguente È tutto spettrale Pure in zona mare Qui siamo Alla palla di pomodoro Sono quattro Le multe Elevate dalla polizia La prima A Pesaro Dove due ragazzi A bordo Della loro auto Sono stati sorpresi Da una volante Lungo le vie Del centro Dopo le 23 Per questo Sono stati multati Di 400 euro Ciascuno La seconda Invece È nel comune Di Sant'Ippolito Dove la stradale Ha fermato Due persone Entrambe In stato di ebrezza Che stavano Tornando Da un agriturismo Oltre alla multa La polizia Ha ritirato la patente Al guidatore E sanzionato entrambi Per violazioni del lockdown Nel frattempo Gli agenti Verificato che il guidatore Era il proprietario Dell'agriturismo Che stava portando a casa Il cliente al ticcio Rimasto a bere E a mangiare Nella sua struttura Fino dopo le 18 Gli è stata fatta Gli è stata fatta Un'ulteriore multa Insieme alla chiusura Del locale Per cinque giorni L'unico motivo Per potersi spostare Dopo le ore 22 È come sempre Per comprovate esigenze lavorative Situazioni di necessità O per motivi di salute Che devono essere allegate Dal foglio di autocertificazione Gli abbiamo visti Sono proprio quei tavoli E quelle sedie vuoti Che hanno fatto scendere in piazza Per protestare Per l'ennesima volta I baristi I ristoratori Gli esercenti Questa volta Di nuovo a Pesaro In piazza del popolo Non è una manifestazione Di protesta Ma è un evento Di sensibilizzazione Tavoli apparecchiati Con lumini di candela Nessun cliente E una padella vuota Proprio come i ristoranti Le scuole di danza E pubblici esercizi Che stanno affrontando Disagio e difficoltà A causa della pandemia E delle decisioni Adottate dal governo Non è stata una protesta Ma un evento Di sensibilizzazione Quello avvenuto Sabato scorso In piazza del popolo a Pesaro A precisarlo Il segretario di Confcommercio Davide Paso Sceso in piazza Con i sindaci di Fano e Pesaro Imprenditori Artisti Musicisti Taxisti E altri rappresentanti Delle categorie colpite Dalle chiusure O dalle limitazioni imposte Dal DPCM In due striscioni Posizionati a terra Il riassunto Delle loro opinioni E richieste La notte porta consiglio Non il virus E ancora Tempo Soldi E pazienza Finiti Covid sta uccidendo le persone Ma la paura Il terrorismo psicologico Che ogni giorno Ci viene propinato Sui media nazionali E sta portando le persone Allontanarsi Dalla vita quotidiana Stasera L'abbiamo voluta dimostrare Ringraziamo i due sindaci Perché Vedere insieme Massimo Seri Come sindaco di Fano E Matteo Ricci Come sindaco di Pesaro Insieme Hanno legittimato Il nostro evento Hanno capito Che noi siamo in grado In maniera rispettosa Educata Di far sentire alta La nostra voce Da oggi però Noi abbiamo chiesto Ai due massimi rappresentanti I primi cittadini Delle due città Vogliamo partecipare Ai tavoli tematici Perché noi Non siamo più in grado Di accettare Un DPCM Creato da 450 Soloni Esperti Che mi chiudono I ristoranti Alle 18 Quando Se loro conoscessero La vita reale Saprebbero che Alle 18 Il ristorante è chiuso Quindi è logico Che non hanno idea Neanche degli orari Non sanno neanche Come funziona L'attività Vogliamo ritornare Alla quotidianità Che ci viene tolta Giorno dopo giorno Proseguito in paso Il problema non è oggi Ma sarà un domani Quello di riprendere La voglia di vivere Qualcuno ha poi Aggiunto Matteo Ricci Per una cattiva pubblicità Personale Ha rischiato di mettere In cattiva luce Un'intera categoria Il disagio che vivono Questi imprenditori È tanto E non sappiamo Quanto durerà Se saremo responsabili Potremmo avere Un ampliamento Della libertà di movimento In caso contrario Ulteriori limitazioni Abbiamo davanti a noi Settimane di resistenza Proseguito il primo cittadino Fino a quando Non ci saranno Un vaccino Ed una cura Appropriata Contro il coronavirus Dobbiamo essere Molto responsabili Molto equilibrati Tra la questione Sanitaria ed economica È ovvio Che le attività Che oggi protestano Sono quelle Che più di altre Hanno avuto Un crollo del fatturato Ed è anche per questo Che i ristori stanziati Devono arrivare velocemente Ieri il ministro Gualtieri Ha detto che un miliardo È già partito E questo è fondamentale Perché anche se non sono sufficienti La velocità del ristoro Diventa fondamentale Per resistere I casi stanno aumentando Noi siamo messi molto meglio Rispetto al resto della regione Perché siamo stati molto colpiti prima Però anche da noi Stanno aumentando Quindi bisogna tenere la guardia alta Avere grande pazienza Grande equilibrio E grande capacità di ascolto Cercando di dare Le risposte possibili In questo caso Velocità al governo Ulteriori risorse alla regione E quello che possiamo fare Anche noi come comuni Sicuramente lo faremo Il covid fa saltare anche L'evento del cartoceto Dopo il festival L'edizione 44 Della mostra mercato Dell'olio e dell'oliva In programma Cartoceto nel mese di novembre Nell'ultimo di PCM Spiega il sindaco Enrico Rossi E' disposta La sospensione delle fiere Di qualunque genere Ma vorrei evidenziare Prosegue il primo cittadino Il danno provocato Non solo con effetti Economici e immediati Per gli imprenditori Ma anche di natura Promozionale e sociale In assenza del festival Aggiunge il presidente Del consorzio Della DOP Cartoceto Tommaso Maggioli Abbiamo realizzato Una rete tra le aziende agricole Attraverso la quale Promuovere tutte Quelle realtà Disponibili Alla prenotazione Dell'olio E alla modalità D'asporto Nelle aziende Aderenti all'iniziativa La polizia di Pesaro Ha identificato I responsabili Della rapina avvenuta Ai danni Di un anziano In Viale Trieste I fatti risalgono Giovedì scorso Quando l'uomo Era stato aggredito Da un ragazzo Che lo aveva spinto E fatto cadere a terra Poi dopo avergli rubato Il portafogli Era scappato Dirigendosi Verso uno sportello Bancomat Dove è stato effettuato Un prelievo Di 500 euro Un passante Testimone dell'accaduto Aveva allertato Il 113 E fornito ai poliziotti La descrizione Dei malviventi Mentre la vittima Aveva sporto denuncia In questura Gli investigatori Della squadra mobile Sono riusciti A risalire agli autori A recuperare La refurtiva Si tratta Di due ragazzi Del posto Rintracciati venerdì sera E condotti in carcere Questa mattina Il GIP di Pesaro Ha convalidato Il fermo Disposto per entrambi E disposto per entrambi La misura cautelare E adesso invece Andiamo Siamo qui in chiusura Del nostro telegiornale A fare gli auguri Gli auguri A Valentina Mattioli Di Fano Che vedete in questa fotografia Che oggi si è laureata Con 110 lode In scienze Della formazione All'università Di Macerata Complimenti E adesso invece Vi ricordo Che tra poco Dopo la pubblicità Le presi del tempo C'è Una nuova puntata Di primo cittadino Con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Questi sono i numeri Di telefono Che come sempre Potete utilizzare Per mettervi In contatto Con noi E fare domande Appunto Al sindaco Ricci Io mi fermo qui Grazie per averci seguito L'appuntamento Con informazione Per domani mattina Alle 7 Con la Rassegna Stampa Arrivederci Con la Rassegna Stampa Con la Rassegna Stampa Con la Rassegna Stampa